Quando passiamo nello stesso capitolo e andiamo al capitolo 12, verso 10 di Geremia, c'è un passaggio che non avrei mai per natura mia voluto entrarci. In realtà, qualcosa che è molto grande per poterne parlare, ma questa volta lo Spirito Santo mi ha obbligato e io voglio essere ubbidiente e questa volta parla, parla ai colleghi, parla pure ai colleghi perché noi molte volte pensiamo perché siamo pastori, possiamo parlare alle pecore, ma la parola del Signore parla pure ai pastori. E meno male che è così, io ho mia moglie che ogni tanto mi prende qualche passaggio nella Bibbia e dice vedi, vedi, come se fosse sempre una sorpresa, dice vedi, 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 questo parla a te che sei pastore. Perché è facile fare le prediche dal pulpito e dire tutto quello che vogliamo, ma la parola del Signore questo giorno mi pesa un poco parlarne, però mi fa pensare una cosa, e spero che non sia così, però so che quando cominciano certe intuizioni a generarsi dentro di me poi va a finire così. Mi ha fatto molto riflettere delle posizioni che si sviluppano nel nostro ambiente. Se noi guardiamo nell'ambiente politico della nostra nazione o altrove, guardiamo che viene messo in luce tutto quello che fanno i politici, è vero. Tutte le magagne, tutte le cose, tutte quelle cose che fanno. Un po' di tempo fa è incominciata la Chiesa Cattolica, vi risulta questo fatto? È incominciata a mettere fuori i pedofili che ci sono, le ingiustizie, i soldi, la banca dello Ior, dove vanno i soldi, alcuni sacerdoti, alcuni vescovi e così via. E dà l'impressione che il marcio sia in altri posti, ma nelle chiese evangeliche no. Signore aiutami, aiutami a non entrarci, perché il Signore mi fa mettere paura questo passaggio. Ma la parola del Signore parla molto chiaro. Molti pastori guastano la mia vigna, calpestano la porzione che mi è toccata, riducono la mia delizia, la mia deliziosa porzione, in un deserto desolato. In questi ultimi tempi, credo che ci sia proprio la necessità, perché il Signore me l'ha messo nel cuore, di parlare anche ai pastori, perché la parola del Signore lo dice. Non pensare tu pastore, io pastore, perché ci è stato dato un pulpito per parlare, possiamo trattare tutte le pecore come noi pensiamo. Perché noi abbiamo una responsabilità maggiore davanti al Signore. Il Signore parla agli uomini e non li distingue come pecore, parla alla coscienza umana. molti pastori guastano la mia vigna, calpestano la porzione che mi è toccata, riducono la mia deliziosa porzione in un deserto desolato. In questi ultimi tempi i credenti sanno e i pastori sanno le difficoltà che ci sono nell'opera del Signore e non sono sempre le pecore. Il Signore ci deve aiutare. pastore, chiunque tu sia, mettiti a posto davanti al Signore, perché gli esempi che abbiamo appena letto sono anche per me e per te, pastore. perché quello che sta succedendo ultimamente con l'arroganza che alcuni pastori usano e con il modo di muoversi stanno guastando l'opera del Signore. lo dico da pastore, perché io sono stato 44 anni in una chiesa, l'ho servita per 26 anni ed è una chiesa che non è seconda a nessuno in tutta la provincia di Salerno, come numero e come dedicazione ad essa. non c'è stato mai bisogno che fosse intervenuto qualche d'uno perché c'era qualche problema, perché la chiamata del Signore è qualcosa di speciale, è qualcosa di importante. Mentre quando cominciamo a vedere in una chiesa che si fanno le votazioni e c'è il 50% da una parte e il 50% da un'altra parte, fratello pastore, io ho detto più volte con i pastori che se avessi il 50% in una chiesa io lascerei il pulpito. Perché? Perché l'altro 50% non riceve niente da quello che tu dici. Ogni tua parola c'è un ritorno che dicono, il cuore dicono guarda prima a te stesso e poi mi dici quello che vuoi dire. Allora è solo una posizione teorica che tu stai lì. Il Signore ti deve aiutare. Il Signore ci deve aiutare perché la parola del Signore questo giorno dice molti pastori guastano la mia vigna, calpestano la porzione che mi è toccata, riducono la mia deliziosa porzione in un deserto desolato. Ma credo che la risposta sia verso 13 perché tu non riesci a mettere insieme la tua chiesa e come pastore già in... un pastore messo... mi sono messo da parte ma sono ancora... io ultimamente ho molte telefonate perché mi chiedono se faccio parte ancora delle Adi. Io sono un pastore merito delle Adi. Ho lasciato la Chiesa perché il Signore mi ha affidato questo compito che abbiamo con le Adi comunione ed una delibera. chiunque ha questo punto interrogativo noi siamo Adi anche se con parole di vita offriamo un servizio a tutte le Chiese d'Italia che hanno la sana dottrina. Il Signore ci deve aiutare e le cose più scandalose succedono proprio nelle nostre Chiese. Volete sentirla? Ve lo dico in segreto. Il pastore che non è ancora pastore lo voglio dire a tutta l'Europa che non è ancora pastore della Chiesa di Silla ha ordinato a credenti che da 44 anni ci conosciamo e stiamo insieme di non partecipare più nella missione parole di vita. Vedete vogliamo tornare al verso 10? torna al verso 10 molti pastori guastano la mia vigna calpestano la mia porzione che mi è toccata riducono la mia deliziosa porzione in un deserto desolato ma almeno che quei credenti sarebbero contenti di restarci niente fosse ma i credenti soffrono per non poter partecipare perché vengono richiamati ogni volta che vengono visti nelle telecamere della nostra della nostra missione vedete il Signore che cosa questo è solo per cominciare io ho avuto paura di cominciare avevo timore ma quando il Signore mi ha parlato e mi ha detto ora è tempo che tu cominci a parlare ai pastori a partire da colui che ancora non è pastore nella comunità che ho lasciato perché dobbiamo avere comunione questo è un guastare l'opera del Signore e proprio perché è un guastare nell'opera del Signore guardiamo il raccolto che se ne riceve fratello sorella nella tua chiesa se tu vedi queste cose allora è il momento di tirar fuori ciò che succede nel popolo evangelico perché Dio parla ai pastori han seminato grano e raccolgono spine si sono affannati senza alcun profitto vergognatevi di ciò che raccogliete e a motivo dell'ardente ira dell'Eterno non dobbiamo dimenticare che al di sopra del pulpito che ci è stato consegnato c'è il Signore che continua a vigilare da guardare pastore credente se nella tua chiesa hai un pastore artificiale se nella tua chiesa hai un pastore diplomatico se nella tua chiesa hai un pastore che non senti l'amore di Dio nella sua vita che ti vuole bene alza il capo perché perché il Signore ti sta parlando in questo giorno è il momento di mettere le mani in profondità in pastori in comitati dove le cose non funzionano perché Dio ha detto e lo voglio rileggere metti 12-10 sorelle fratelli guardatevi da pastori che non sono pastori che amano il gregge di Dio non amano fare la volontà del Signore ma vi costringono dicendo chi dovete invitare a casa e chi non dovete invitare addirittura dove dovete andare questi non sono pastori sono caprai perché vanno devono correggere le capre ma non le pecore molti pastori guastano la mia vigna calpestano la porzione che mi è toccata riducono la mia deliziosa porzione in un desolato deserto la parola del Signore dice vergognatevi ne vogliamo parlare a tutta l'Europa e a tutto il mondo perché Dio comincia con i pastori ha detto il Signore prima di cominciare quest'opera che il 30% ci sono tanti pastori consacrati il 30% dell'opera del Signore è affidata a credenti e pastori che temono veramente il Signore il resto è tutta una funzione ma lo Spirito Santo ci chiarirà tutto quello Dio ha dato una guida speciale ai nostri cuori che per lo Spirito Santo dà luce alla nostra coscienza non c'è bisogno di prendere e costringere le pecore che devono fare quel che diciamo noi in materia di dottrina per camminare nelle vie del Signore va bene ma in materia di dire dove un credente deve andare e dove non deve andare questo vi dovete vergognare siete dei settari tutti quelli che si muovono in questo modo quando ci accorgiamo che c'è puzza di bruciato in un ambiente cosa facciamo? Facciamo la scelta di uscircene fuori perché ci manca il fiato facciamo la scelta di Geremia facciamo la scelta del pubblicano facciamo la scelta della vedova facciamo la scelta di Pietro questi sono gli esempi da seguire che la parola di Dio presenta ed approva la scelta del fariseo non serve a niente le altre scelte non servono a niente perché ci portano in un contesto verso 13 se lo vuoi mettere quando nella tua chiesa fratello sorella cominci a vedere che manca l'amore di Dio è perché qualcuno sta seminando grano e raccoglie spine si affannano senza alcun profitto vergognatevi di ciò che raccogliete a motivo dell'ardente ira dell'Eterno che vuol dire l'ardente ira dell'Eterno dove ci sono contese e dissensioni lo Spirito Santo non partecipa alla sua presenza e ora che comprendiamo queste cose come popolo evangelico e come popolo pentecostale quando nella tua chiesa ci sono dissidi incomprensioni e si vive in un contesto di amaritudine continua c'è l'ira dell'Eterno che resta su quella posizione possiamo cantare possiamo gridare vogliamo far credere tutto quel che vogliamo far credere ma ci manca la presenza dello Spirito Santo la pace di Dio quando manca la pace di Dio che cosa c'è? manca l'umiltà e manca la mansuetudine due elementi principali perché lo Spirito Santo possa operare il Signore ha iniziato questo nuovo cammino oggi che è un ricordo mi ha obbligato a farlo credo che lo svilupperà molto il Signore ci aiuterà a portare avanti questa opera perché è un'opera direttifica che il Signore sta chiamando a fare nei membri ma nei pastori pastore metti il verso 10 per cortesia pastore chiunque tu sia non guastare la vigna del Signore se non sei chiamato a servire il Signore ma non guastare la vigna del Signore dovunque tu sei chiunque tu sia io ho portato quello della nostra della mia chiesa solo come esempio ma poi fratello tu che ascolti sorella tu che ascolti sai quello che sta succedendo nella tua chiesa non ti accontentare di vivere una vita mediocre se c'è fuzza di bruciato escitene subito perché il Signore ti ha fatto libero e il pastore ti imprigiona Signore aiutaci dovunque ti trovi sorella fratello che sei imprigionata da un pastore che non teme Dio escitene subito perché Dio ti ha liberato sii tu cattolico evangelico non ti mettere sotto un sistema perché ti distruggi la vita e ogni volta che vai nella chiesa ti avveleni ma non ricevi nulla Signore ti vuole liberare in questo giorno Signore ti vuole liberare dalle grinfe di qualche lupo che è lì con le vesti da pecora e che in tutti i modi ti vuole dimostrare il contrario ma io ti voglio dire una cosa Dio ti ha dato una guida speciale che è lo Spirito Santo se attraverso il naso senti puzza di bruciato e te ne esci fuori da un ambiente perché hai paura che ti manca l'aria lo Spirito Santo ti fa comprendere che dove sei dovunque tu ti trovi non sei nel posto giusto il Signore ti manda un messaggio potente esci fuori dalla chiesa dove sei lo Spirito Santo ti guiderà in un'altra parte ma non farti imbrigionare da qualche pastore che non ha cuore l'opera del Signore l'opera del Signore è qualcosa di speciale è una porzione deliziosa speciale che va curata con tutta la passione del cuore quando questo non lo vedi nel pastore nel tuo pastore sorella comincia a alzare gli occhi fratello comincia a alzare gli occhi perché verrà il momento e non sarà lontano che lo Spirito Santo ti trasferirà e ti farà comprendere quante cose tu già li vedi che li confermerà per dire ho sbagliato chiesa voglio servire il Signore ma non servire una denominazione ti voglio ricordare che quando abbiamo dato il cuore al Signore non l'abbiamo data ad una denominazione l'abbiamo data a Gesù Cristo che ogni giorno attraverso lo Spirito Santo ci guida e quella dobbiamo seguire se guardiamo al verso 7 guardiamo al verso 7 dello stesso capitolo ho lasciato la mia casa ho abbandonato la mia eredità vedete per servire il Signore questo profeta lasciò tutto ho dato quello che l'anima mia di più caro nelle mani dei suoi nemici per prendere la buona parte quest'uomo che sembrava uno sconfitto quest'uomo Geremia che sembrava il meno approvato nel contesto della sua della sua missione cedette tutto ma non cedette l'opera che Dio gli aveva affidato non cedere l'opera che Dio ti ha affidato perché gli uomini vanno e vengono ma Dio sarà la tua forza ci vogliamo alzare in piedi vogliamo ringraziare il Signore Signore noi ti ringraziamo per la tua parola e grazie per questa nuova visione che Dio cominci a mettere Signore tu mi hai obbligato a parlare di questo e tutto quello che tu mi dirai io lo continuerò a fare perché ho dedicato la mia vita a te quando ti ho incontrato e voglio fare la tua volontà Signore ti presento Signore quanti quante pecore quante quante anime Signore sono oppresse da pastori che non sanno pascolare neppure i cani aiutaci Signore per amore del tuo nome a cercare la tua faccia e la tua presenza e metti nel nostro cuore una santa dedicazione di piacere a te te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo amén grazie Signore a te Signore amén amén